Ciao Emanuel, da un mese sto frequentando una ragazza meravigliosa. Io non desidero altre e questa è cosa nota. Lei d'altro canto ha una relazione fisica con un amico che ancora non ha troncato, sebbene abbia detto che crede sia opportuno farlo ma le serve del tempo. Non penso di avere il diritto di imporle e di scegliere se rinunciare, specie se in cambio io non rinuncio a nulla. Sto portando pazienza e dandole i suoi tempi per risolvere le sue questioni, ma inevitabilmente un minimo di sofferenza c'è. Andrea, dolce, dolce, dolce Andrea, tu mi dici che lei ha bisogno di tempo per interrompere questo rapporto fisico, ma il tempo per interrompere un rapporto fisico è quello che le serve per sfilarsi dalla figa il cazzo di questo tizio. Anche ipotizzando che sia molto dotato e vista la difficoltà rinunciarci lo ipotizzo, diamole 5 secondi per effettuare l'operazione. Invece tu mi dici che le servono dei mesi. Quindi questo non è un rapporto fisico come tutti i racconti, è un rapporto emotivo, affettivo. La ragazza di cui ti sta innamorando attualmente è in un'altra relazione. Dici che non hai il diritto di imporle, di scegliere o rinunciare, e questo è verissimo. Rientra nella sua libertà quello che sta facendo. E inoltre è un importante segno di maturità emotiva comprendere che l'amore non si forza. Il sentimento, la volontà all'impegno, devono fluire spontaneamente. Poi però specifici che tu non hai il diritto di chiederle di rinunciare perché tu a tua volta non rinunci a nulla. Qui però la tua grande e ammirevole capacità di comprensione si arriccia su se stessa, raggiungendo quasi un livello di perversione, perché i rapporti effettivi non sono basati sulla rinuncia. Se lo sono poi arrivano le recriminazioni. Le rinunce possono essere necessarie, ma ciò su cui un rapporto è basato è la volontà, è l'amore, è l'impegno. E tu questo impegno lo stai mettendo al 100%. Lei, per sue ragioni invece, lo sta mettendo al 50%. Quindi assurdo che sia tu a sentirti in difetto. Semmai sarà lei, in termini di impegno nella relazione, a sentirsi in difetto. Senza però per questo essere lei colpevole di nulla, perché lei è stata onesta ad avercene di persone così. Tantissime persone si tengono comodamente il piede in due scarpe senza dire nulla e poi scelgono quale comprare. Lei non l'ha fatto, lei si è confrontata con te. Quindi in questa storia non c'è una cattiva o un buono. Ci sono due persone che forse in questo momento della loro vita vogliono cose inconciliabili. Cosa puoi fare tu? Mi vengono in mente due opzioni. La prima è riuscire attivamente a ridurre le tue aspettative. L'infelicità nei rapporti arriva quando le aspettative sono disattese. Se le tue aspettative sono quelle di vedere una persona una volta al mese per fare insieme il punto e croce e vedi questa persona una volta al mese e fate il punto e croce, tu sei soddisfatto. Se invece ti aspetti qualcosa di più e vi ritrovate a fare il punto e croce, sei deluso. Funziona poi così. Se tu riesci attivamente a ridurre le tue aspettative e quindi a farti andare bene il fatto che quando vi vedete è meraviglioso, ma la relazione diciamo termina quando non state insieme perché lei affettivamente e fisicamente quando non sta con te può stare con qualcun altro, allora porta avanti serenamente questo rapporto. Ma se non riesci a ridurre le tue aspettative e quindi soffri, io al tuo posto le parlerei. Ora non so come si chiami, ne immagino, non so, Eulania, le dici Eulania. A meno che tu proprio ora sia giunta spontaneamente al termine di quest'altra tua relazione, io non ti posso far pressioni, però ti dico prenditi del tempo per te stessa, prenditi cura di questa situazione. Accordatevi per rivedervi tra tre mesi, magari fissate anche la data, così c'è proprio un obiettivo. E poi chissà che in realtà prima di questa data non sia lei a dirti che ha capito interamente che cosa vuole. Se poi tra tre mesi è ancora lì che fatica per interrompere questo rapporto fisico, allora direi che forse è il caso di guardare altrove. Andrea ti mando un bacio con l'augurio di capire che cosa è meglio per te. A presto.